In studio, Marco Scavino. Bentrovati in nuova edizione del nostro telegiornale, in apertura allo stupro di gruppo al Foro Italico. Sono stati chiesti 12 anni per 5 degli imputati nel processo, nei confronti di quel gruppo di ragazzi che, secondo la testimonianza della vittima, avrebbero abusato del corpo di una 19enne. Vittima che non ha neanche ricevuto le scuse dai componenti del branco, ha denunciato l'avvocato della vittima proprio oggi, parlando con i giornalisti. È stata chiesta invece pena minore, sollecitata per il sesto ragazzo. 12 anni di carcere per 5 dei 6 ragazzi imputati nel processo dello stupro del 7 luglio 2023 al Foro Italico di Palermo, ed anni di una 19enne, la Procura di Palermo ha chiesto 12 anni di carcere per Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Cristian Maronia, Cristian Barone ed Elio Arnao e 10 anni e 8 mesi per Samuele Lagrassa. Le richieste tengono conto dell'aumento di pena per le aggravanti e della riduzione di un terzo per la scelta da parte degli imputati del rito abbreviato. Una lunga requisitoria a carico degli imputati, in cui sono state ripercorse tutte le tappe di quella sera, iniziata alla ucciria tra un bicchiere e l'altro, due chiacchiere, finita al Foro Italico con il presunto stupro, fondamentali le immagini delle telecamere lungo il percorso del gruppo e le intercettazioni. La presunta violenza sessuale era stata peraltro anche filmata da Flores, che sarebbe stato l'unico che la giovane conosceva e che non l'avrebbe neanche sfiorata all'interno del cantiere. A denunciare la violenza ai carabinieri fu la stessa vittima, fatta obbriacare e stuprata dagli imputati in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Tutti gli imputati hanno scelto il rito abbreviato e si sono detti innocenti, negando la violenza e parlando di rapporto consensuale. Sono reati che prevedono condanne molto pesanti, come previsto dal codice. A me dispiace molto che questi giovani rischino una condanna molto alta, ma chi sbaglia paga. Il commento dell'avvocato Carla Garofalo, che assiste la vittima, in aula ho ribadito oggi che nessuno dei giovani ha chiesto scusa alla vittima, aggiunge l'avvocato, è stata letta una lettera da parte di uno dei giovani nella quale è stato chiesto scusa alla mamma, alla sorella, alla fidanzata. Nessuna parola per chiedere scusa alla vittima. Adesso torniamo a parlare della 26enne rimasta ustionata a Catania, la ricostruzione di quanto avvenuto, anche se vige il più stretto riservo da parte della Procura. Non possiamo confermare né smentire alcunché ci sono indagini in corso, così gli investigatori che si occupano del caso della 26enne ustionata in strada a Catania dopo che una donna le ha gettato della benzina addosso e le ha piccato il fuoco. La Procura, che ha aperto un'inchiesta, ha imposto il massimo riservo sulle attività in corso. Poco o nulla trapela sull'attività, ma il faro della polizia è acceso sulla madre di una delle due ragazzine che avrebbero litigato per un fidanzatino conteso. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata lei a gettare liquido infiammabile sulla 26enne parente, pare una cugina, dell'altra ragazzina. Ma sembra che poi le indagini si siano indirizzate su un'altra donna presente alla lite. Non è ancora chiaro se la vittima abbia preso parte attiva alla lite o se abbia tentato di svolgere un ruolo da pacere. Le due ragazzine avrebbero avuto un forte contrasto al telefono, pare con anche l'invio di messaggi che avrebbero portato allo scontro tra appartenenti alle loro famiglie. Tra i particolari da chiarire chi è esattamente la donna che ha usato il liquido infiammabile, chi ha comprato la benzina e se l'avesse già con sé facendo dell'aggressione un atto premeditato. I fatti si sono verificati ieri pomeriggio a Catania tra via Ventimiglia e via Capuana. Le fiamme hanno procurato alla giovane ustioni sul 20% del corpo. La ragazza è stata portata prima al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi con ustioni sparse per poi essere trasferita all'ospedale Cannizzaro per essere seguita dagli specialisti del centro ustioni poiché la giovane ha riportato ustioni in particolare sul volto, collo, braccia, torace e adesso è ricoverata in rianimazione con prognosi riservata in gravi condizioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Dopo il caso catanese, adesso quello palermitano in riferimento al decreto Cutro. Le bocciature arrivano ancora una volta dalla Sicilia dopo i no dei giudici catanesi che tante polemiche suscitarono nei mesi scorsi sul cosiddetto decreto Cutro. Si pronunciano da poco più di un mese i giudici della sezione specializzata in migrazione e protezione internazionale del Tribunale di Palermo competenti a decidere sulle convalide dei trattamenti della frontiera disposti dalla costura di Agrigento in seguito all'apertura del centro di Porto Empedocle. Da allora, l'inaugurazione della struttura risale a metà agosto, solo 10 delle 74 decisioni di trattenimento alla frontiera sono state convalidate mentre 64 sono state ritenute illegittime. Il decreto prevede che i richiedenti asilo che hanno fatto richiesta di protezione internazionale alla frontiera o in zone di transito che provengono da paesi che l'Italia ritiene sicuri e che siano sprovvisti del documento di riconoscimento e privi della garanzia finanziaria prevista dalla legge possano essere trattenuti negli hotspot, nei centri di soccorso e prima accoglienza e, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, anche nei centri di permanenza per rimpatri. I provvedimenti di trattenimento devono essere poi convalidati dalla magistratura. Nel caso dei fermi disposti a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, i giudici palermitani, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno ritenuto le decisioni del questore illegittime, tanto da avallarne soltanto 10 su 74. Alla base del no alla convalida per i magistrati, sostanzialmente ci sarebbe l'assenza della dovuta motivazione sulla necessità del trattenimento, sulla sua proporzionalità e sull'impossibilità di fare efficace ricorso alle altre misure alternative di tipo non coercitivo. Ha inaugurato questa mattina la FAM a Ragusa, l'assessore regionale Barbagallo, e rispondendo alle domande dei giornalisti ha parlato della siccità, ha parlato della crisi idrica nella nostra isola e delle possibili soluzioni. Sentite. Fare tornare i consorsi di bonifica nelle mani degli imprenditori agricoli è la soluzione su cui sta lavorando l'assessore all'agricoltura della regione siciliana Barbagallo. Una soluzione è questa che da un lato permetterebbe di far arrivare l'acqua in quelle campagne in cui l'acqua non arriva a causa delle perdite, perché si garantirebbe una gestione più funzionale dei consorsi e dall'altro di affrontare in maniera meno gravosa il problema della siccità. L'occasione di confronto con l'assessore Barbagallo è stata l'inaugurazione della 49esima edizione della FAM, la fiera agroalimentare mediterranea, durante la quale l'esponente regionale ha parlato della crisi idrica anche ai nostri microfoni. I consorsi di bonifica, a mio parere, devono tornare nella gestione degli imprenditori agricoli e da oltre 30 anni che sono commissariati perché gli imprenditori agricoli non possono in questo momento assumere la gestione in quanto c'è una forte crisi, soprattutto per i debiti. Stiamo predisponendo, abbiamo predisposto, una bozza di riforma che è stata valutata dalle commissioni di merito dell'Ars e che io spero presto possa essere esaminata anche dal Parlamento per l'eventuale approvazione. C'è poi la questione del riutilizzo delle acque reflue da tempo caldeggiata come soluzione alla siccità. Purtroppo è evidente che riutilizzare le acque reflue costa più di utilizzare le acque convenzionali. Questo perché occorre fare dei controlli, dei monitoraggi che per le acque convenzionali non si fanno, a tutela dei consumatori, a tutela dei operatori agricoli, a tutela di tutti, a tutela anche dell'ambiente. Questo fa lievitare leggermente il costo del riuso. Quindi bisogna investire qualche cosa sia in termini di strutture, sia in termini poi di monitoraggio, cioè di controllo sul territorio di quello che avviene. Questo per tutelare, diciamo, tutti. Per quanto riguarda invece la situazione del bacino di Ponte Barca, l'assessore dice Anche le acque che scorrono a valle di Ponte Barca vengono intercettate dagli agricoltori e comunque la prendono. Però certamente la traversa di Ponte Barca deve essere messa a posto. Il Dipartimento della Protezione Civile ha messo a disposizione le risorse finanziarie e io spero, avremo qualche incontro nei prossimi giorni, spero che ci possa essere al più presto un intervento per sistemare intanto le paratoie della traversa e poi per intervenire sul disinterro della traversa, perché la traversa è molto interrita. Nel corso degli anni, ovviamente, è arrivata molto sedimento da monte e quindi c'è stato un notevole interrimento, per cui una traversa chiede l'ordine di un milione di metri cubi e ora ha una capacità molto ridotta e questo limita la capacità di regolazione dell'acqua. E parliamo ancora di ambiente, agricoltura e dei temi legati al G7 a Siracusa. Si è tenuto questa mattina un convegno nell'ambito degli eventi collegati al G7 Agricoltura e Pesca sul tema tutela della biodiversità nelle aree marine protette tra pesca e turismo sostenibile. È stato promosso da Federparchi dal Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio. Viviana Sammito. La tutela della biodiversità nelle aree marine protette tra pesca e turismo sostenibile è il convegno promosso a Siracusa nella sede dell'Urban Center nell'ambito degli eventi collegati al G7 Agricoltura e Pesca promosso da Federparchi e dal Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio. La mission è avviare una concretazione di collaborazione con le istituzioni come Comune e Provincia Regione Siciliana al fine di promuovere il rispetto alla tutela della biodiversità e rilanciare l'ecoturismo in un periodo in cui il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova l'ecosistema. Riscontriamo una grande sensibilità da parte dei pescatori, da parte dei cittadini, da parte delle istituzioni perché sono dei temi che ormai sono entrati sicuramente nella Vox Populi Generale ma bisogna sempre mantenere alta la guardia perché le minacce, le incombenze e anche i cambiamenti climatici possono sicuramente portare delle innovazioni anche in negativo. quindi fare in modo anche che le aree marine protette siano degli hub di studio e di ricerca, di monitoraggio, degli hotspot, di biodiversità dove monitorare questi fenomeni e siamo sicuri che se c'è una adeguata concentrazione equilibrata delle attività antropiche sicuramente si può tutelare sempre in maniera migliore appunto l'ambiente e gli ambienti naturali. E continuiamo a parlare del G7 obiettivo e fame zero con innovazione è stato detto durante la presentazione si è aperto stamattina ufficialmente il sipario sui lavori del G7 agricoltura e pesca al Castello Maniaccio di Siracusa Handshake stretta di mano per l'accoglienza e il via con le sessioni nelle quali si è discusso di dialogo tra i ministri e gli studenti G7 con un dibattito su redditività, resilienza, equità e sostenibilità dei sistemi alimentari le delegazioni presenti sono costituite dai membri del G7 dalla commissaria Giuseppe Asaco dai ministri dei capi delegazione di Algeria, Angola, Costa d'Avorio Egitto, Etiopia, Kenya, Mauritania Senegal, Sudafrica, Tunisia, Uganda e dalle organizzazioni internazionali come FAO la Food and Agriculture Organization of the United Nations e l'Ocse l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Interessanti spunti sono emersi nel corso del forum dei paesi africani che si è tenuto ieri pomeriggio al Teatro Comunale di Siracusa nel corso del quale la realtà africana hanno illustrato il quadro generale dell'agricoltura nei loro paesi puntando sul contrasto alla fame e al cambiamento climatico grazie all'innovazione alle tecnologie alla formazione sempre con il supporto dei grandi paesi come Italia, Canada, Stati Uniti Francia, Germania e Gran Bretagna la commissaria per l'agricoltura dell'unione africana Giuseppe Asaco ha ricordato che scadrà nel 2025 la dichiarazione post Malabo invitando tutti a Campala in Uganda dal 9 all'11 gennaio a sostituire il progetto e promuovere nuovi investimenti approvando il piano d'azione africano l'Italia e l'Africa si sono rivolte a dei player centrali come li ha definito il ministro dell'agricoltura l'olobrigida che possono svolgere un ruolo strategico a farli eco il vice ministro degli affari esteri Edmondo Cirielli abbiamo una capacità di creare il loco valore aggiunto di creare un durevole sviluppo economico e sostenibile perché allo stesso tempo punta su culture residenti capaci di combattere concretamente il cambiamento climatico secondo me la maniera più intelligente è soprattutto decidere dove fare questi finanziamenti e quale tipo di interventi fare insieme ai paesi che ospitano però una banalità ma coinvolgere l'Africa chiedere ai paesi africani di che cosa avete bisogno le parole chiave sono tecnologia, giovane e resilienza per una maggiore competitività l'Italia ha chiamato in causa il piano Mattei è chiaro che dobbiamo concludere da questo punto di vista in maniera concreta il piano Mattei rappresenterà insieme all'Unione Europea al G7 un importante elemento di sviluppo nuovo del continente africano tentato omicidio a Catania ha fermato un 34enne si è fatta luce sul tentato omicidio avvenuto lo scorso 17 settembre a Catania è stato fermato dalla squadra mobile etnea Gianluca Patti 34 anni che deve rispondere di tentato omicidio detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo tutto è iniziato dalla segnalazione dei sanitari nel pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi gli agenti hanno acquisito elementi che hanno dimostrato come il 34enne avrebbe ferito una persona che ha subito un intervento chirurgico con l'estrazione di due ogive e successivamente ricoverata presso il reparto di ortopedia per ferite d'arma da fuoco multiple e una prognosi di 20 giorni grazie anche alle immagini di videosorveglianze è stata ricostruita la dinamica i fatti sono successi in via a Gramignani nel quartiere San Cristoforo l'origine dei fatti sarebbe riconducibile a contrasti di natura familiare sul posto sono stati rinvenuti due bossoli calibro 7,65 nonché le ogive dei tre proiettili che avevano attinto la vittima il 34enne si trova rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania l'aeroporto di Comiso scende in campo anche il versante calatino a sostegno della realtà Iblea il comune di Caltagirone sostiene le iniziative del comitato di fede e sviluppo dell'aeroporto degli Iblei la posizione del sindaco Fabio Rocuz è volta a fare rete e promuovere iniziative e strategie per riconsegnare a Comiso l'identità che merita quello di un aeroporto che oltre all'importanza legata alle sue origini ha potenzialità che non vengono esaltate e questa circostanza provoca il disinteresse di compagnie aeree e cittadini soprattutto quelli dei territori Iblei del Calatino che pur avendo lo scalo Pialatore più vicino rispetto al Fontana Rossa sono costretti a viaggiare verso l'aeroporto di Catania stamattina si è tenuta una riunione definita proficua dal comitato rappresentato da Antonio Prelati Lorenzo Mazza ai quali è stata confermata la disponibilità ad ospitare il tavolo dei sindaci di una parte del sud-est il sindaco Rocuzzo si farà portavoce nel corso di incontro che si tra l'otto ottobre assolutamente io mi farò carico di coinvolgere anche nella mia qualità di presidente dell'unione dei comuni del Calatino gli altri sindaci che sono certo con grande slancio accoglieranno l'esigenza di sostenere con forza una proposta volta a migliorare la qualità della vita anche delle loro comunità secondo la sindaca di Comito Schembari c'è la necessità di incrementare gli autobus che possono portare i cittadini di altri comprensori di altri territori verso l'aeroporto di Comito secondo lei questo è il vero problema quali potrebbero essere le strategie di rilancio di questo aeroporto per renderlo più appetibile ma quello che pone la collega sindaco di Comiso è un tema importante perché naturalmente garantire servizi di trasporto pubblico adeguati che consentono di raggiungere l'aeroporto è condizionale perché l'attrattività possa crescere io peraltro nel mio piccolo a Caltagirone ho già un servizio di trasporto urbano che mi fa una corsa la mattina e che attraversando Mazzarrone consente a coloro che vogliono recarsi all'aeroporto di Comiso di poterlo raggiungere comodamente un altro tema è il miglioramento e la riqualificazione di tutto l'asse viario aggiungo che dal mio punto di vista questo tornerebbe utile anche alla SAC e all'aeroporto di Catania perché snellirebbe un pezzo di utenza che se declinata sull'aeroporto di Comiso migliorerebbe e qualificherebbe anche la funzionalità dell'aeroporto di Catania Qual è secondo lei la responsabilità se in realtà ci sono poi delle responsabilità sulla gestione di quest'aeroporto? Ma io non ho nessuna difficoltà a dire che c'è una scelta nefasta e negativa della politica siciliana e soprattutto di chi governa in questo momento la regione siciliana che tende a non valorizzare l'aeroporto di Comiso e a non farne un polo attrattore a beneficio di centinaia e centinaia di migliaia di persone Adesso torniamo a parlare invece del trasporto scolastico in provincia di Ragusa al centro della mobilitazione di diversi genitori in particolare nella città di Pozzallo ma anche al centro di un tavolo in prefettura perché è stato ripristinato il servizio la comunicazione è arrivata nel pomeriggio dal libero consorzio comunale di Ragusa che ha ringraziato l'intervento e l'interesse mostrato dal prefetto di Ragusa è stato revocato l'incarico intanto all'Etna Trasporti e ritornerà la tratta con l'Aste e intanto ciò che si apprende su tutti gli altri temi invece al centro del confronto in prefettura maggiori approfondimenti seguiranno nei prossimi giorni hanno fatto sapere dall'Ente di Viale Delfante il calendario venatorio adesso con la mancata sospensiva è stato respinto infatti il ricorso dal TAR è stata rispinta l'istanza cautelare presentata dalle associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia WWF Italia Onlus L'IPU L'EMPA e la Lega per l'abolizione della caccia che hanno impugnato il decreto dell'assessorato i giudici del TAR di Palermo hanno anche respinto la richiesta di sospensiva al calendario venatorio presentato dalla regione siciliana gli avvocati hanno affermato che il calendario venatorio in relazione ai periodi alle specie cacciabili è pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dalle leggi anche nel rispetto del principio di precauzione di piena conservazione del patrimonio faunistico secondo i giudici le previsioni delineate dal calendario venatorio dell'assessorato regionale seppur in alcuni casi si discostano dal parere Ispra devono considerarsi ragionevole in linea con il quadro normativo di riferimento l'udienza di merito è fissata per il 4 dicembre con decreto assessoriale del 17 luglio scorso l'assessorato regionale alla pesca ha regolamentato l'esercizio del prelievo venatorio in merito alla stagione 24-25 e con apposito calendario ha autorizzato l'apertura anticipata della stagione venatoria cosiddetta preapertura nei giorni 1, 2, 4, 7, 8 e 11 settembre per alcune specie selvatiche di uccelli e l'apertura generale della stagione venatoria affardata dal 15 settembre anziché dal 1 ottobre per le altre specie animali ricacciabili lamentando un asserito stato di crisi ed emergenza ambientale ecologica e climatica della regione siciliana le associazioni ambientaliste hanno impugnato il decreto davanti al TAR di Palermo chiedendo nella previa sospensione dell'esecuzione l'annullamento nonché l'aduzione di provvedimenti cautelari urgenti nessun sindaco ha partecipato all'incontro che si è tenuto oggi alla Camera di Commercio a Catania incentrato e dedicato al riutilizzo della cenere dell'Etna c'erano tutti tranne i primi cittadini lo afferma il presidente di Confambiente Catania Giuseppe Guaiardi era presente il dirigente generale dell'assessorato aggiunge Guaiardi così come l'ARPA all'Università di Catania alcune aziende di Confambiente è intervenuta anche l'Anci il presidente dell'SRR di Catania il presidente di Confambiente Catania ricordando la normativa regionale che esclude la cenere dell'Etna al mondo dei rifiuti osserva come pertanto utilizzandola come sottoprodotto non va a stridere regolamenti nel mondo dei rifiuti una occasione mancata per i primi cittadini è stato evidenziato da Confambiente che ha denunciato l'accaduto ci fermiamo c'è la pubblicità MTG torna tra qualche istante ben trovati seconda parte del nostro telegiornale l'assessore al bilancio del comune di Catania risponde alla richiesta giunta dai sei presidenti dei municipi che chiedono più potere economico sentita lunedì in consiglio comunale a Catania si continuerà a discutere del DUP il documento unico di programmazione documento fondamentale per la strategia dell'amministrazione e tra le osservazioni da analizzare c'è anche quella dei presidenti dei municipi che chiedono più potere economico una richiesta ci dice l'assessore al bilancio che verrà tenuta in considerazione anche se ci sono delle criticità su cui occorre ragionare formalmente loro chiedono la delega di funzione che è prevista dalla norma in realtà questo in questo momento avviene attraverso delle somme che vengono proprio destinate ai municipi ma attraverso i centri di spesa attuali cioè le municipalità non hanno un centro di spesa diretto ma per esempio nel caso in cui abbiano bisogno di manutenzione si rivolgeranno alla manutenzione ci sono dei costi che vengono destinati proprio alle municipalità quello che chiedono loro invece è che il centro di costo diventa proprio il municipio qui però poi si pone anche un problema di personale perché se loro hanno le somme ma non hanno a chi fare svolgere determinate funzioni si ritorna poi in capo al comune è chiaro che nel momento in cui la municipale diventa un centro di costo deve avere anche personale amministrativo che possa poi svolgere le funzioni adatte per preparare dei libri per preparare i provvedimenti necessari a svolgere le stesse funzioni se queste somme di municipalità cambia qualcosa anche negli emolumenti di presidenti e consiglieri? Ritengo di sì perché nel momento in cui svolgono funzioni amministrative potrebbero ottenere un aumento credo all'incirca del 40% E in un momento di dissesso del comune non è forse auspicabile? Io non farei questo ragionamento più che altro vedremo di verificare che costi comporterebbe se il nostro bilancio li può sostenere La tappa a Catania la campagna della Polizia di Stato e del Ministero dell'Istruzione una vita da social per aiutare i giovani a non cadere nelle trappole del web Saper utilizzare i social e internet ed evitare di cadere in trappole pericolose è la mission del progetto una vita da social alla campagna educativa itinerante di Polizia di Stato e Ministero dell'Istruzione del Merito nell'ambito del progetto Generazioni Connesse è giunta alla dodicesima edizione oggi il track della campagna ha fatto tappa a Catania nel corso del nuovo anno scolastico sono infatti 60 le città italiane che verranno raggiunte proprio dal track della Polizia di Stato e tra le realtà coinvolte c'è per l'appunto Catania dove questa mattina in piazza Bellini gli operatori del centro sicurezza cybernetica della Polizia Postale e i referenti per la questura di Catania all'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori hanno incontrato gli studenti proponendo interventi di sensibilizzazione sul tema ne avvertiamo la necessità l'importanza di sensibilizzare come sempre i minori i più piccoli questa volta abbiamo coinvolto le classi di prima seconda media ci sono qua due scuole delle Catanese perché è estremamente necessario informarli su quelli che sono i rischi spesse volte rischi molto gravi del web in particolare su un utilizzo corretto dei social parliamo di tutte le forme di cyberbullismo dalle condotte più gravi fino ad arrivare a quelli meno gravi non dimenticando che una delle forme più pericolose è quella dell'adescamento online quella in cui i pedofili attraggono a sé per scopi sessuali i bambini più piccoli come può un bambino accorgersi di ciò? beh un bambino si può accorgere se c'è un attento monitoraggio un attento monitoraggio vigilanza da parte dei genitori noi ci sforziamo di sensibilizzarlo e di attrezzarlo con quelli che sono gli strumenti per comprendere quando qualcosa non va e anche ad aiutarci e a segnalarcelo era questo l'ultimo servizio grazie per averci scelto buon proseguimento su video mediterraneo grazie a tutti